amiche amici delle bombe di Vlad buonasera e benvenuti alla trecensima puntata del calcio nel mercato partiamo subito stasera abbiamo tantissime notizie tantissime novità eh su tutto il firmamento del calcio mercato facciamo entrare subito il mio compagno di serata Pietro Accoglia buonasera Pietro buonasera ciao Ale buonasera a tutti buonasera buonasera Pietro dicevamo una una serata che si annuncia subito piena di notizie e per e per sapere tutte queste notizie per aiutarci in questa carrellata di notizie e commenti una buonasera e soprattutto un grazie a Enzo Fusco che sarà con noi fino al termine del calcio mercato fino al cinque ottobre grazie Enzo buonasera buonasera Alessandro buonasera Pietro buonasera a tutti e sarà veramente un piacere condividere diciamo questo mesetto di mercato che poi è la fase che più interessa un po' tutti immagino quindi cercheremo di di stare in compagnia e dare notizie in tempo reale diciamo se ci si riesce per noi per noi sarà sarà veramente un piacere ricordiamo che fra pochissimo avremo un collegamento telefono telefono telefonico con il nostro eh Marcello Fusco che ci racconterà tutto sul ritiro del Napoli eh la chiusura del ritiro questa questo questo ritiro che si sta eh concludendo e ce l'avremo fra pochissimo allora io volevo eh innanzitutto iniziare eh con con la notizia di di giornata abbiamo parlato molto lunedì nello speciale calcio mercato eh che abbiamo fatto eh da ritiro del Napoli anche della questione Messi eh sembrerebbe essersi leggermente dipanata eh la questione e volevo volevo sapere da da Vincenzo e da Pietro eh le novità eh sulla questione Messi perché pare insomma che che il padre del del giocatore Orge abbia aperto per la per diciamo la conferma al Barcellona almeno per quest'anno Vincenzo eh sì eh sì diciamo che la strada sembra questa eh in verità noi eh parlandone proprio la scorsa puntata ci eravamo orientati un po' tutti quanti verso questa soluzione che che da sempre almeno personalmente ho ritenuto quella più credibile io credo che soprattutto lui abbia voluto dare un po' una sferzata all'ambiente e abbia voluto chiedere delle garanzie eh probabilmente se andrà avanti così e poi magari a a dicembre prima che lui possa accordarsi a zero con qualcuno si potrà pensare anche di riproporre un rinnovo e in attesa poi delle elezioni di di marzo del nuovo presidente che dovrebbe essere la porta che è il favorito che poi è anche il preferito di di Messi che potrebbe proporgli a me stasera qualche amico già mi mi dava supposizioni di cifre addirittura un contratto a rialzo per il giocatore per i prossimi due anni queste sono cose che si vedranno magari dopo ma l'idea è quella che ormai possa restare lì quello che quello che quello che sembra no Vincenzo è che era un affare veramente enorme che che aveva dei contorni eh dei contorni talmente grandi anche a livello economico dal momento che che la 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 spagnola eh si era schierata con il Barcellona eh non aveva che non aveva consentito lo lo svinculo quindi non aveva ritenuto valida eh la 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 clausola che che aveva Messi fino a giugno c'è parso subito che era che 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 l'affare era veramente troppo grande no? Si era certamente complicato è ovvio che sentendo parlare di certi c'è un Messi che si libera a zero avrebbe potuto avere un senso per qualche club pronto sia finanziariamente ma continuo a ripetere pronto anche tecnicamente perché poi mettere Messi in una squadra che non era del tutto pronta sarebbe stato forse un autocorso ma poi eh essendoci il rischio di una sanzione di una squalifica e anche eh di dover pagare un indennizio poi dopo una una pronuncia della FIPA avrebbe scoraggiato chiunque era una veramente un'operazione in mane tra l'altro io credo che una una probabile permanenza di Messi al Barcellona avrà conseguenze sul mercato di parecchie squadre anche italiane almeno di quattro cinque squadre italiane. Questo ti chiederò di ti chiederò questa cosa legata legata a Napoli perché era una cosa di cui avevamo parlato nei nei giorni scorsi no? Che sembrava che l'acquisto di Messi da parte del siti bloccasse un po' il mercato del siti. Eh io mh ho notato che eh la la mossa del del presidente Bartomeu è stata una mossa da da abile politico no? Perché eh Pietro se se tu mi 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 dai conferma della della cronistoria lui a un certo a un certo punto si è dichiarato pronto eh a lasciare se se il problema eh fosse fosse stato lui quasi come a mettere Messi spalla al muro no? Eh a dire allora se il problema sono io mi mi faccio da parte e tu rimani Pietro. Pietro eccoci. Mi senti? Ecco. Sì sì. Diciamo che Bartomeu ha giocato da stuzia mettendo Messi con le spalle al muro mettendo mettendolo nella situazione di dire Messi a scegliere se restare o andar via. Quindi a dire come il Barcellona vuole che Messi rimanga Bartomeu vuole che Messi rimanga ma se Messi va via la colpa non è del Barcellona. Quindi Bartomeu ha svolto ha giocato bene le sue carte diciamo così mettendo Messi spalla al muro. Poi la l'aiuto avuto dalla Liga al Barcellona diciamo perché di aiuto si tratta ha veramente spianato la strada verso la permanenza. Anche se ancora nulla è ufficiale. Nulla è ufficiale. Diceva Vincenzo proprio in in quest' ottica che eh la conferma di Messi a Barcellona diciamo eh libera il Manchester City per alcune trattative che sarebbero state eh ferme se eh fosse stata confermata questa notizia. E una di queste di queste proprio Koulibaly eh vi volevo chiedere a che punto siamo arrivati eh con Koulibaly eh perché eh poi le parleremo proprio con con Marcello Fusco da da Castel di Sangro il giocatore è perso un po' distante eh dal dalla dalla dall'ambiente del ritiro è perso un po' distaccato un po' pensieroso eh Vincenzo eh questa questa diciamo eh apertura del Manchester ad altre trattative potrebbe facilitare abbreviare la trattativa Koulibaly? Eh mi piacerebbe intanto fare una premessa ma giusto per perché ho letto anche da qualche parte eh fare delle similitudini eh tra quello che potrebbe essere un caso Koulibaly eh paragonandolo a quella che è stata un po' la questione Allan. Allora ci terrei a dire che sono due cose nettamente diverse sia per il carattere del dei due giocatori in questione sia per il contratto in essere che avevano i due giocatori perché eh Allan guadagnava una cifra e Koulibaly a Napoli ne guadagna un'altra e sia per la lunghezza del contratto. Questo lo dico giusto come previsione a dire che nel caso ad oggi diciamo ancora improbabile eh che Koulibaly resti perché diciamo siamo sempre orientati al fatto che vada eh bisogna essere certi che poi il ragazzo saprà calarsi diciamo nella stagione perché è un professionista un ottimo ragazzo sta bene a Napoli e guadagna bene quindi questo suo disagio nasce da un'incertezza ma no ma non dall'infelicità di dover stare a Napoli. Sì sì no 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 questo questo è giusto sottolinearlo Vincenzo è giusto sottolinearlo perché molti tifosi possono fraintendere cioè il ragazzo se gli venisse comunicato oggi se fuori dal mercato resta a Napoli probabilmente questo stato di disagio lo supererebbe. Esattamente è stato è giusto da parte due dal parte due. Detto questo è ovvio che adesso il City ehm diciamo qualora diventasse ufficiale questa permanenza di Messi eh al Barcellona avrebbe eh campo più libero anche finanziariamente eh oltre che strategicamente per dedicarsi a questa che per loro era comunque una trattativa importante perché la realtà dei fatti dice che diciamo loro sono fermi a un'offerta di dieci quindici giorni fa che è sempre la stessa che per quello che mi risulta nonostante quello che leggo fa fatica ad arrivare ai settanta milioni con i bonus e anche sotto a me mi dicono intorno ai sessantasette sessantotto e vorrebbero pagarlo in cinque esercizi cosa che proprio ho detto è lontanissima dalle idee di De Laurentiis più ancora che la cifra che viene proposta quindi si spera che adesso riescano a fare quello sforzo io dico che mancano una decina di milioni insomma e naturalmente a pagare in un periodo un po' più breve almeno in tre anni diciamo che che probabilmente come hai detto tu eh erano un po' impegnati in altre in altri pensieri eh grandi e magari adesso eh il il pensiero potrebbe eh ritornare su Coulibaly eh Pietro oggi ci sono state delle dichiarazioni di di De Laurentiis che eh hanno un po' eh confermato questo eh diciamo questo questo mettere Coulibaly sul mercato ma soprattutto hanno detto cosa eh quasi quasi un pentimento per non aver venduto prima i giocatori quando quando era il momento no? Perché eh le quotazioni poi cambiano eh i momenti storici del calcio e dell'economia in generale possono variare e poi ci si ritrova con eh con con dei rimpianti Pietro quali sono state le dichiarazioni di di De Laurentiis oggi a Radio Quischisse Sì eh prima della sfuriata finale De Laurentiis ha ehm ammesso di aver in un certo senso anche sbagliato nel passato a non cedere subito quei giocatori che stavano facendo una grande stagione a fronte di un'offerta importante diciamo la classica frase bisogna battere chiodo finché caldo quindi De Laurentiis forse ha sbagliato a non cedere Allan quando aveva una valutazione molto importante anche se dalle sue stesse dichiarazioni non erano cifre esorbitanti che si eravano i cento milioni ma erano cifre molto più basse come è stato uno dei primi oggi a a sottolineare questa cosa Enzo no? Cioè che erano cifre ben lontane da quelle che che erano da quegli 80-90 milioni sì a volte si accendono le 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 fantasie e le polemiche per per cifre che circolano completamente fuori luogo considerando che Allan un anno e mezzo fa perché parliamo a gennaio duemila diciannove era stato ammortizzato per tre anni e mezzo mentre adesso era completamente ammortizzato perché era il quinto anno di permanenza il Napoli quindi cinque anni è tutto quindi è tutta plus valenza c'è anche questa differenza di di almeno altri due tre milioni per cui se vai a raffrontare le due cifre ormai sono quasi simili quindi l'operazione Allan tutto sommato non porta un grande disagio economico rapportata da un anno e mezzo fa e pietro quindi per per chiudere lui si è diciamo quasi quasi pentito di non aver di non aver venduto quando era il momento e anche ammesso e anche ammesso che magari adesso venderà un giocatore anche un anno dopo eh averlo comprato quindi proprio per sottolineare il fatto che non vuole più farsi trovare impreparato e quindi trovarsi in altre situazioni come può essere quella di Allan o come può essere nel piccolo in maniera diversa anche la situazione Coulibaly perché Coulibaly un anno e mezzo fa aveva una valutazione molto più importante rispetto a quella di cui stiamo parlando adesso. Allora poi vogliamo eh voglio fare eh rendere subito tranquillo Giuseppe D'Alterio che ci sta scrivendo abbastanza accalorato sia su su Messi a lui non gli interessa né di Messi né di di niente altro che che del 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 Napoli quindi lui vuole sapere adesso sulla la questione Milik sì perché sta veramente avvelenato sulla questione mercato Napoli allora noi vogliamo subito tranquillizzarlo e e voglio voglio chiedervi e soprattutto iniziando da Vincenzo eh siamo arrivati a a un punto importante per la trattativa tra Milik eh Roma eh Under eh Napoli eh faccio faccio dire a Pietro un attimo un cappello eh sulla sulla diciamo sulle nostre ultime notizie e poi chiede a Vincenzo un commento. Sì allora proprio in nella giornata di ieri abbiamo riportato una nostra eh esclusiva eh in cui davamo quasi per fatta la trattativa tra Milik e la Roma eh Milik si è convinto di accettare la Roma e eh quindi sembra propenso a trasferirsi eh nel nel club capitolino ehm a Napoli quindi dovrebbe arrivare Underre Cengiz Underre la carta scelta dal Napoli come contropartita per il polacco a fronte di un corrispettivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai quindici milioni di euro ehm diciamo quindi che lo scambio a buon punto e eh la trattativa sembra davvero ben avviata questo poi potrebbe aprire anche altri scenari però diciamo che per il momento la trattativa è ben avviata e eh la fumata bianca può essere abbastanza vicina. Noi ieri abbiamo scritto che dalla trattativa eh sarebbe uscito il giovane Ricciardi oggi è stato confermata eh da sia da Sky eh che da altre testate che il giocatore sarebbe in in prospettiva del presidente del Pescara. Eh Enzo è la trattativa diciamo è rientrata nel nell'ordine di di idee che c'eravamo prefissati cioè con con Milik a Roma Underre un corrispettivo dei quindici milioni ci siamo come come trattativa? Sì le le notizie che arrivano sono sono queste anzi ti dirò ehm che ehm è probabile che questa trattativa eh possa essere allargata già da subito anche anche a veretù eh perché eh pare si stia trovando una quadra anche sulla valutazione di quel giocatore ed è ovvio che eh dando delle valutazioni adeguate che accontenti non sia la Roma che il Napoli a tutti e tre i giocatori facendo un'operazione allargata eh la Roma ne potrebbe ricevere un vantaggio perché a quel punto sarebbe la Roma a ricevere il famoso conguaglio si capovolgerebbe un po' la cosa e questo probabilmente renderemmela renderebbe la Roma ancora più serena nel fare questa questa operazione quindi è possibile addirittura che la trattativa abbia questo sbocco veloce e che addirittura eh entrambi i giocatori in breve tempo possano eh passare al al Napoli eh normale che eh eh si batte soprattutto su Milic e Under però pare che ripeto mi arrivano notizie che eh anche per veretù la cosa sta prendendo un'accelerata su su veretù la Roma fa una valutazione eh che eh partiva da dai famosi trenta milioni che dicevamo la scorsa settimana e diciamo che che potrebbe come abbiamo come aveva detto anche Francesco Romano eh l'inserimento di qualche contropartita potrebbe abbassare eh la 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 quotazione però eh diciamo che che al momento eh il Napoli ha bisogno di di un centrocampista no? Con l'uscita di Allan eh il Napoli ha bisogno di un centrocampista. Sì l'idea è quella di farlo comunque anche se poi eh ripeto non è da escludere e in relazione anche a un cambio modulo eh entri vere tu e per assurdo ci possa essere qualche sorpresa eh comunque eh in mezzo al campo però il Napoli l'idea di fare un centrocampista eh che sia duttile anche muscolare un po' muscolare la mantiene viva perché eh una necessità chiesta è manifestata dall'allenatore insomma eh quindi eh quello che 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 quello che pare è che da a questa trattativa siano legate un po' tante altre trattative che 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 girano intorno no? Perché eh l'arrivo di Milik eh alla Roma eh libererebbe Zeko eh sulla questione Zeko ne abbiamo parlato un pochino eh lunedì eh pare che eh che sia sia un giocatore che sta in mezzo tra tra Inter e Juventus e tu che perché cosa propendi Vincenzo al momento perché abbiamo letto eh e abbiamo detto che Suarez alla Juve è una cosa un po' lunga e un po' lontana rispetto a alle prime ottimistiche previsioni no? Eh siamo usciti noi prima con un articolo eh in cui eh noi parlavamo di di Suarez eh come extra comunitario la Juve alle caselle tutte e due piene eh riempite da eh l'americano eh Meccani ed Arthur e soprattutto il passaporto che usa eh Suarez eh ha in Spagna cioè quello della eh della moglie italiana in Italia ancora non è valido e avrebbe delle tempistiche un po' più lunghe quindi eh forse è proprio questo che spinge la Juve più verso più verso Dzeko no? Sì 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 come dici il passaporto richiederebbe una una quarantina di giorni ma detto questo ehm da quello che mi perviene eh addirittura Pirlo per il modo di 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 pensare la squadra ritiene Dzeko più adatto eh a giocare eh con Di Bala e Ronaldo per il modo in cui partecipa all'azione e e quindi più sostenibile anche dalla squadra quindi ad oggi ti direi che Dzeko muovendosi da Roma eh direi novantacinque per cento Juve eh cinque per cento Inter magari l'Inter là accontenterà lo stesso Conte con qualche profilo a lui gradito simile a Dzeko per caratteristiche ma che non sia Dzeko quindi io direi potrebbe tornare di moda anche Giru no? Per l'Inter? Esatto esatto sì esatto quella è l'idea che potrebbe tornare di moda anche perché a costi inferiori eh a a Dzeko sia nell'indennizio che eventualmente chiederebbe il Chelsea ma anche nell'ingaggio che insomma Giru si aggira sui cinque cinque e mezzo quindi comunque ci poi col decreto crescita naturalmente viene favorito no? Esatto quindi io credo che quella potrebbe essere l'opzione per l'Inter da qui a breve eh per cui dire Dzeko Dzeko Juve Suarez lo vedo più molto più complicato eh sicuramente la Juve Sì diciamo che come ha detto giustamente Enzo Dzeko è la prima scelta di Pirlo almeno da quello che trapela questa è la direzione giusta se mi permettete Suarez è una occasione di mercato che la Juventus se può provare a cogliere perché comunque c'è da dire che la situazione per Dzeko è abbastanza complicata Dzeko non ha aperto alla possibilità di lasciare la Roma anzi sta avendo sta per nascere il quarto figlio quindi si trova bene a Roma e come è già successo in passato vorrebbe rimanere a Roma qualora il giocatore aprisse alla possibilità della Juventus allora il discorso si si riaprirebbe però Suarez Qui ci sono opinioni un po' contrastanti Pietro su Dzeko no? Nel senso che la dichiarazione del giocatore al termine della partita di Europa League ha aperto eh un un po' un fronte con Fonseca eh si è lamentato un po' del gioco di Fonseca si è lamentato di una Roma con poche prospettive eh le voci che arrivano a Roma e e ti parlo da eh diciamo da da fruitore del eh del della piazza eh sono quelle di 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 alcuni giocatori che che hanno paura di un'ennesima annata di transizione alla Roma eh hanno paura di di incappare in una in una annata anonima e soprattutto non vedono ancora il progetto di di Fretkin così spianato eh ora eh è chiaro che la Juve poi diventa un'occasione una una è una possibilità che eh che viene che che viene una volta sola per alcuni giocatore e quindi probabilmente poi si 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 diciamo eh si farebbe convincere facilmente Dzeko dalla dalla proposta della Juve secondo secondo me eh questo sì questo lo penso anch'io però dicevo diciamo che per il momento non c'è questa apertura totale che magari forse anche la Juventus si aspettava perché c'è da sottolineare questo anche che la Juventus si ha cercato si ha trovato un principio d'accordo con Suarez anche perché Dzeko non ha aperto totalmente all'ipotesi di lasciare la Roma. Diciamo che è un po' un come come diceva Enzo è un po' un un circolo che deve partire no? Un effetto domino che poi eh basta una 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 diciamo una petina che si muove e si porta presso tutti gli altri eh vi volevo chiedere una cosa scusami scusami vai vai volevo aggiungere una cosa che eh avrei voluto dire prima eh su Suarez un'altra complicazione eh potrebbe essere proprio l'eventuale permanenza di Messi al Barcellona perché penso che se Messi resta lì Suarez fa un altro anno a Barcellona eh penso che non si muove più io ho quest'idea. Quindi potrebbe potrebbe essere una richiesta dell'argentino quello di di confermare Suarez. Ecco questa è una cosa su cui scommetterei anche un cento euro ecco diciamo che se Messi resta là una delle prime cose che potrebbe chiedere è proprio la conferma di Suarez sia per il rapporto di amicizia ma anche per il calciatore che è naturalmente eh poi eh questo anche magari senza rinnovo ma un altro anno. Il nostro il nostro amico Maurizio è d'accordissimo con te. Eh come dice una cosa quindi per questo dico eh c'è Geco molto davanti anche a Suarez che Suarez se si incastra anche la conferma di Messi penso che eh le possibilità di vederlo in Italia diventino veramente ridotte tra passaporto, ingaggio, commissioni, i tempi per liberarsi eventualmente e le richieste di Messi per tenerlo capirai che cambia la scena la scena di di parecchio insomma. Prima parlavamo di Coulibaly eh e vi volevo vi volevo chiedere una cosa eh sì Pietro va bene eh vi volevo chiedere una cosa eh Coulibaly eh la vendita di Coulibaly eh al momento diciamo la permanenza di Coulibaly a Napoli blocca eh un'altra serie di affari che potrebbe sbloccarsi eh Boga diciamo che che è il nome che che si è fatto eh per il per il mercato del Napoli eh al momento diciamo che si ferma finché non esce Coulibaly questa mi pare Enzo no la? Assolutamente sì anche perché sappiamo benissimo che eh come sempre il Sassuolo si dimostra una bottega cara e non è semplice portargli via giocatori di valore eh quindi per cui eh confermano di di volere quaranta milioni per il giocatore inizialmente non aprivano nemmeno a contropartite adesso sembra che ci sia una leggera apertura lì si dovrà sfruttare appunto il fatto di fare cassa e la volontà del del ragazzo eh molto semplicemente sperando di abbassare leggermente le pretese del degli emiliani però sicuramente si dovrà aspettare l'uscita di Coulibaly ci sono molti da casa che che ci chiedono se eh un der esclude Boga noi lo diciamo subito un der non esclude Boga eh nell'intendimento del Napoli eh c'è spazio per tutte e due c'è bisogno di di alternative l'abbiamo sempre ripetuto con i cinque cambi cambia totalmente la prospettiva di acquisto delle squadre perché bastano due cambi veloci se l'abbiamo sempre detto no? Poi in in prospettiva del fatto ho detto che giocando spesso a questo punto anche con quattro due tre uno davanti giocando con quattro due tre uno devi avere quattro coppie quindi otto giocatori offensivi cioè c'è poco da fare poi con me li ruoti eh è compito dell'allenatore ma se vuoi giocare spesso quattro due tre uno e devi tenere ne devi tenere di più quindi l'idea è quella poi certo non è detto ed è eh si può garantire che arrivino entrambi perché poi il mercato prende delle pieghe ma nelle idee è quello fare due esterni e quindi due nomi sono quelli poi capire c'è Enrico Enrico che era d'accordissimo con noi io vi fermo un attimo perché voglio introdurre eh il nostro Marcello eh Fusco da Castel di Sangro buonasera Marcello Buonasera Alessandro ciao Pietro ciao buonasera a tutti voi ciao Marcello buonasera ciao Marcello buonasera allora intanto grazie Marcello perché sappiamo che sono stati giorni compressi e e abbastanza è abbastanza duri sotto il profilo fisico eh diciamo nel ritiro del Napoli ci racconti un po' le impressioni di questo ritiro come è andato il ritiro se c'è se c'è qualche curiosità eh intanto grazie per tutti i reportaggi che ci hai che ci hai dato in in questi giorni Sì come ho detto tu sono stati giorni tra ricordate pesanti ma pesanti in modo felice perché ovviamente insomma l'esperienza per noi tutte le bombe di Vlad è stata un'esperienza importante abbiamo avuto modo di seguire da vicino insomma tutte le vicende eh attorno a Napoli ovviamente in un contesto come quello di di Castel di Sangro che tra l'altro è stato assolutamente ospitale eh si è respirato un clima assolutamente sereno soprattutto nel rispetto insomma di tutte le norme eh del insomma del covid che che tutti ben conosciamo eh quindi insomma è un'esperienza felice credo che insomma tutta la cittadinanza pure è rimasta contenta credo che sarà un'esperienza che sicuramente negli anni eh porterà dei frutti anche insomma per i prossimi ritiri eh per quanto riguarda le curiosità io prima ti ho ascoltato li ha scena che stessi tu eh ci siamo soffermati molto su quello che mi è stato all'atteggiamento di Palico di Palì io proprio stamattina l'ho osservato molto da vicino e eh come diceva anche Enzio sinceramente mi trovo pienamente d'accordo eh il discorso dell'alla dell'alla in vis del che tanto si sente parlare insomma in questi ultimi giorni è un discorso insomma eh che che non trova proprio riscontro con quello che può essere la situazione di Palì nel caso in cui dovesse restare a Napoli. Stiamo restando per le notizie che continuano a ricevere comunque parlo ti abbiamo perso Marcello? Abbiamo perso il collegamento con Marcello? Un attimo. Il prossimo alla partenza? Ci siamo? Io lo sento. Sì sì adesso ti risentiamo. Mi sentite? Sì 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 no stavo dicendo e stavo mi mi racconto di nuovo nel discorso di Palio di Palì c'è da dire che insomma eh le 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 notizie che abbiamo ovviamente anche ovviamente le conferme che arrivano direttamente dalla presidente della Rennes eh ci fanno credere che il calciatore continua ad essere più lontano da Napoli rispetto ad una sua eventuale permanenza. Ehm abbiamo fatto insomma un abbiamo come l'hai definito tour di Portaci su di lui semplicemente perché è curioso constatare come un calciatore che attualmente è una bandiera del Napoli eh stesso si trovava in disparte stesso insomma eh lo si poteva notare eh in uno stato emozionale ed emotivo eh anche insomma eh abbastanza tese ecco cioè lo diceva diceva bene Enzo prima no? Quasi quasi la voglia di di sapere al più presto il futuro o di o di rimanere o di andare però di saperlo insomma perché è una situazione che che non non fa stare tranquilli diciamo. È una situazione che sicuramente non fa stare tranquillo tra l'altro è è una situazione che tutti i calciatori ovviamente osservano eh e insomma si rendono conto e voglio dire eh si respira voglio dire attorno al calciatore quello che gli sono state emozionate. Eh tra l'altro l'ho visto stesso rammaricarsi eh diciamo di giocare sbagliati in allenamento eh l'ho visto non forzare troppo ovviamente eh la giocata e ci sta ci sta perché eh sono ore comunque importanti il calciatore ovviamente si sta giocando il futuro perché potrebbe strappare eh insomma contratto qui in penale in posto altissimo sono definitivo della sua carriera. Parliamo insomma di cifre intorno ai dieci mili di euro che gli assicuri che è prestiti quindi voglio dire eh è tutto lecito io l'ho definito lescio questo atteggiamento nulla di di insomma di di particolarmente strano ecco da parte sua e di non professionale. Senti Marcello mi dai un attimo un tuo giudizio sul lavoro di Gattuso visto da da vicino no? Ne abbiamo parlato anche in privato eh noi è un allenatore che che pare eh abbia abbia messo eh in questa avventura del Napoli tutto tutto quello che che ha dentro no? Eh grinta passione. Gattuso è assolutamente un leader è un leader sia per per tutti i tifosi che lo seguono che ne stanno apprezzando comunque le doti umane oltre che tecniche perché Gattuso è un tecnico che tra l'altro scusate il gioco di parole continua da giocare passi costantemente su quello che è il suo lavoro è sicuramente un allenatore emergente ma eh voglio dire è è un allenatore che 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 ha tutta la voglia di imporsi in questa sua nuova veste perché sappiamo bene che ha giocatore quello che è stato ehm ho visto che c'è un grandissimo affidamento per i compiacciatori sono sincero oltre che appunto come ti ho detto alla volita azzurra ed è molto molto concentrato su questo questo cambio modulo cambio modulo che come già abbiamo detto in più occasioni potrebbe essere non per forse un modulo definitivo quello è 4 2 3 1 ma potrebbe essere una alternativa più che valida ehm perché lo provo continuamente in allenamento insomma io ho avuto modo di di vedere di constatare che è soprattutto ehm quello è il tipo di allenamento è il tipo di concentrazione che che si sta svolgendo eh durante questo ritiro ma sicuramente le prove continueranno anche una volta rientrati in campagna e questo mi fa ben pensare e insomma mi tollevano dal discorso di Veretù che intanto sto leggendo nei commenti eh ci fa piacere che eh stanno arrivando insomma delle conferme importanti anche queste ore tra l'altro noi abbiamo scritto proprio il 20 agosto di Veretù quando abbiamo avuto la abbiamo raccolto la nostra discrezione dalle nostre fondi informazioni che il salciatore era molto vicino a Napoli a distabito di quelle che erano le parole della della gente eh ovviamente Gattuso sa bene che eh provando quel tipo di modulo sa che da qui a poco dovrebbe ricevere insomma un centrocampista in più che gli permetterebbe di di poter giocare e di potersi insomma imporre ancora di più e meglio con questo tipo di modulo e quindi ovviamente le caratteristiche di Giorda Veretù si sposano totalmente con quelle che l'idea nuova, l'idea fattica di Gattuso. Lascio una domanda a Vincenzo per per Marcello e una domanda a Pietro. Poi se hai una curiosità Vincenzo per Marcello. Sì 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 eh è una curiosità che è una cosa che volevo chiedergli già diciamo eh la scorsa la scorsa volta e cioè capire ehm il lavoro che eh se se eh prova qualcosa di diverso anche eh con gli esterni eh bassi Gattuso in allenamento perché la eh la mia idea è che provando col quattro due tre uno eh grande equilibrio devono dare i due esterni bassi e gli esterni alti eh soprattutto quando si tratta di eh accorciare e scappare indietro. Quindi volevo vedere se le esercitazioni con le linee eh coinvolgevano molto gli esterni bassi in dei movimenti insomma un po' più ehm consolidati. Tutta una rapidità a trasformarsi in quattro cinque uno velocemente no? È stato perfetto 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 esatto. Marcello? Sì eh eh è ovviamente da buon conoscere di calcio che è ex calciatore ha ha capito perfettamente che ovviamente il lavoro che sta svolgendo Gattuso non è solo insomma riferito ai due centrocantisti centrali a copertura della difesa a quattro ma è un lavoro che coinvolge molto anche gli esterni eh ovviamente c'è da dire che eh in questi giorni che siamo saliti noi mancavano tredici nazionali. Quindi eh ovvio che eh insomma il tipo di eh approccio che abbiamo potuto noi costatare sia io che saluto di San Nino che tra l'altro insomma saluto che eh mi ha fatto mi ha stato mio compagno di viaggio in questa avventura ehm è ovviamente è limitato a quelle che eh erano gli uomini a disposizione ci sono tantissimi giovani ci sono tantissimi ancora i superi che non sono partiti con le nazionali. Quindi eh ovviamente quello che abbiamo potuto costatare è sicuramente un lavoro anche degli esterni eh bassi e alti però eh nei limiti di quelle che è la rosa attualmente a disposizione e quali insomma stanno completando il ritiro che terminano domani. Invece Marcello per chiudere la mia domanda è relativa alla porta eh anche le foto esclusive mandate da te da Salvatore abbiamo visto che Valerio Fiori è il nuovo preparatore dei portieri quindi volevo chiederti come si è mosso lui e come si sta muovendo il Napoli comunque visto che sappiamo che esiste ancora questo dualismo tra Merette e Ospina quindi qual era il clima che si riscava torna a questo dualismo? Allora anche qui devo dire che Merette non c'era perché come ben sappiamo è nazionale quindi ovviamente eh a fare compagno a Ospina c'era soprattutto il giovane di Pita Contini che tra l'altro io mh ho avuto modo di vedere da vicino ma non che ce ne fosse bisogno oltre ho disputato un buonissimo campionato lo scorso anno è giovane veramente di grande prospettiva e mi mi terrei personalmente eh sinceramente spiegato come terzo portiere poi magari si faranno delle valutazioni più là eh detto questo quindi sì c'è stato insomma l'ingresso di Valerio Fiori ho visto un clima molto affietato anche tra loro insomma eh i portieri si sono allenati spesso anche in disparte eh soprattutto hanno provato insomma le le uscite ehm che con il pala al piede insomma che è un po' eh quello che eh soprattutto richiede Gartuso è quello che tra piccoletti sembra eh essere un po' il neo eh del giovane Alex Merette. Attualmente ovviamente per quanto riguarda gli risultati di mercato che abbiamo continuano ad avere ovviamente questo è un dualismo che c'è ehm solo eh cioè è relativo sostanzialmente perché il tecnico ha l'idea abbastanza chiaro. Attualmente continua a vedere eh ovviamente più ostina come eh titolare che ma questo non vuol dire che nel corso dell'anno non ci possa essere di nuovo un cambio di gerarchie voglio dire è la è una sana competizione che ci può essere tra l'altro il Napoli eh non non ha minimamente insieme di chiedere il calciatore quindi tutte le voci che continuano a girare attorno insomma al futuro di Alex Merette vanno stroncate ovviamente la gente del calciatore fa anche gli interessi dello stesso Alex Merette però eh in Napoli non può sceverlo non credo che che verrà ceduto in questa sessione quindi si proseguirà così e poi si vedrà quale tra i due continuerà ad essere più titolare dell'altro diciamo così. Marcello grazie tantissime eh buon riposo e ti 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 aspettiamo in live già da giovedì prossimo grazie ancora per tutto quello che che hai fatto in questi giorni da da Castel di Sangro. Grazie Marcello un abbraccio. Ciao Marcello un abbraccio. Un saluto ad Enzo e a Pietro e Alessandro un abbraccio. Ciao Marcello buona serata. Ciao Marcello buona serata. Buona serata. Intanto come ha detto Marcello salutiamo anche il nostro Salvatore Sannino che è stato protagonista insieme a lui di questo ritiro e e e ci ha e ci ha deliziato con alcune con alcuni interventi dal nostro amico Francesco Molaro eh da Club Napoli on News ogni pomeriggio dal da Castel di Sangro. Io proprio per chiudere un attimo la questione eh Poulibaly eh si è parlato eh molto di di dei possibili sostituti eh c'era un accordo eh del Napoli con Lille per per Gabriel Magalianes che è andato al all'Arsenal e sono girati un po' di nomi eh ti ho letto oggi Enzo eh chiaramente eh concordo con con te quando dici bisogna stare attenti a dire eh è fatto è chiuso eh la trattativa è chiusa e stiamo parlando di eh di Senesi eh è una trattativa che che ancora ben lontana da essere chiuso il giocatore eh l'abbiamo detto eh interessa a Napoli è un giocatore che è sul taccuno del Napoli eh io direttamente eh ho sentito alcuni alcuni contatti eh olandesi che ci hanno parlato di eh contatti ma non non di più al momento quindi aspettiamo un attimo Enzo ti lascio la parola giusto per per fare un cappello introduttivo perché quando poi si dice è fatta è chiusa la trattativa eh eh sempre un po' da da andare con i piedi di piombo no? Sì sì diciamo che questo mercato già ci ha regalato un paio di sorprese no? David Silva alla Lazio e Tonali all'Inter quindi dare per fatte delle trattative è molto rischioso eh sicuramente è un calciatore che piace eh non poco aggiuntoli che lo segue da prima che andasse al Feyenoord se vogliamo essere precisi quindi è un giocatore che lo scouting del Napoli eh osserva almeno da un annetto e mezzo eh il Feyenoord mh sembrerebbe addirittura non avere intenzione di venderlo la realtà è il miglior difensore del del campionato del campionato perfetto perfetto ehm quindi eh naturalmente non sarebbe una trattativa semplice eh se si vuole eh fare un punto un po' sulla difesa dovremmo dire che eh a onor di cronaca il il giocatore più vicino è realmente Socratis ma per una questione di di opportunità e cerco di spiegare perché poi qualcuno mi dice come si fa a pensare di sostituire Coulibaly con Socratis allora eh eh Socratis è un calciatore che hm il Napoli eh diciamo attenziona e e vorrebbe bloccare per un semplice motivo che nell'incertezza di sapere ancora se Coulibaly uscirà e quando blocchi un profilo esperto non costoso in termini di cartellino che laddove Coulibaly si bloccasse la cessione tu puoi prendere ugualmente facendo uscire Maximovic quindi non sprecando la vendita di Maximovic da cui puoi prendere circa una ventina di milioni andando a prendere il senesi di turno dove devi rinvestire l'intera cifra quindi Socratis è quel è quell'esatto eh diciamo ehm d'incalzo che eh viene comodo in tutte le occasioni per cui sia se esce Coulibaly sia se uscisse Maximovic perché non si riesce a vendere Coulibaly Socratis sarebbe un ottimo eh calciatore messo in un quartetto che poi comprende Manolas, Rachmani e Maximovic o Coulibaly eh eh se nessi sarebbe un discorso che verrebbe dopo io direi più nel caso in cui eh magari eh potessero uscire sia Coulibaly che Maximovic cosa che io ad oggi reputo molto improbabile io che poi che se fosse ehm Socratis Papastatopoulos e Manolas sono compagni di nazionale compagni di reparto quindi diciamo si conoscono anche e sanno già il modo che all'altro di giocare quindi sarebbero anche giocatori che potrebbero trovarsi bene tra di loro. Sì vabbè poi inoltre diciamo che spesso si tende eh una cosa che a me non non tanto gradisco diciamo da tra virgolette dico ancora detto ai lavori cioè eh giudicare un calciatore su un ricordo perché molti parlano di Socratis ricordando quello di Genova magari non lo vedono giocare da sette anni perché guardano solo il Napoli o il campionato italiano e dimenticano che questo signore ha giocato trecento partite al Dortmund centocinquanta all'Arsenal novanta di Champions cento presenze in nazionale cioè allora si si tende a banalizzare ogni giocatore come se fosse l'ultimo ricordo di casa ma ma io dico io dico magari uno solo dei quattro difensori del Napoli avesse la carriera di Socratis apriamo le bottiglie di di champagne non per valore anche il palmares anche il palmares perché sta vincendo ha vinto due trofei in quindici giorni quindi sono giocatori comunque di di esperienza di carisma eh utili anche fuori dal campo eh certamente non possiamo dire che sia il miglior difensore del mondo ma non mi sembra nemmeno corretto bollarlo come lo sconosciuto di turno e questo 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 dei ricordi dei ricordi confusi e magari non precisi dei dei giocatori è una cosa che che penalizza poi molto i giudizi no eh io quello che volevo ancora eh chiedervi eh ci sono dei giocatori prima di per chiudere il mercato del Napoli sono dei giocatori che devono uscire eh Pietro eh stiamo parlando di Unas eh qual è la situazione al momento e poi volevo rispondere al volo eh su eh Regolion eh Regolion il problema di Regolion è che eh sugli esterni il Napoli adesso al momento è pieno esce qualche esterno si potrà fare un altro esterno se non esce se non esce un esterno difficilmente si andrà a comprare per una cifra così alta finché non si vende con i bali un giocatore da trenta milioni come diceva Enzo prima cioè bisogna un attimo anche regolarsi per eh diciamo le le gli esborsi economici Pietro se mi fai un attimo un recap su eh Unas su Unas e su Goulam. Sì su Unas allora partiamo da Goulam che forse eh c'è qualche eh certezza in più ovvero il fatto che il giocatore sta trattando anche la risoluzione contrattuale con il Napoli ed ha mercato in Inghilterra quindi qualora il giocatore decidesse di lasciare Napoli la Premier League sarebbe il primo campionato a cui aspirerebbe. Per quanto riguarda Iunes, Iunes è seguito dal Genoa come abbiamo riportato anche noi eh la trattativa è ben avviata e ehm l'avventura in rosso blu potrebbe essere molto importante per lui ricordiamo i buoni contatti, buoni rapporti tra il Napoli e il Genoa mentre per quanto riguarda Unas, Unas si è aperta la possibilità di vederlo sempre in Italia al Cagliari anche se dall'estero ci sono molte squadre sulle sue tracce. Quindi diciamo è un mercato in divenire come anche quello dei giovani che c'è anche Tutino in uscita, c'è anche Chetano in uscita, quindi bene o male il mercato del Napoli si svilupperà anche anche attorno a queste quattro cinque cessioni. Ok. E poi mi ha detto Enzo c'è anche da mostrare Maximo Vici. Volevo rispondere a Mauro eh di Carlo eh che eh parla di Acerbi, ieri era uscito il nome di Acerbi eh francamente non c'è nulla su Napoli Acerbi che possa eh far pensare ma a un interessamento del Napoli e che magari potrebbe anche esserci come giocatore ma al momento non c'è nulla su Napoli Acerbi. Eh Acerbi sta trattando il rinnovo con la Lazio eh c'è stata una prima richiesta del giocatore eh da eh tre milioni e mezzo la Lazio pare offra due milioni e mezzo eh oggi abbiamo ho scritto un tweet perché da nostre informazioni non ci risultano nessuna tensione tra Acerbi e la Lazio non ci risulta nessun problema tra Acerbi e la Lazio è il normale parlare al momento del rinnovo dell'ultimo contratto importante per un giocatore eh Enzo ti volevo chiedere una cosa eh parlando del del ieri prima parlavi di trattative che sono eh hanno cambiato all'improvviso eh direzione e hai parlato di Tonali eh il Milan eh eh ha messo a segno il colpo il colpo Tonali che è un colpo eh molto molto importante eh è un affare per il Milan Tonali a queste cifre perché eh si parla di prestito da dieci milioni eh poi c'è un obbligo eh a fine campionato a queste cifre Tonali per il Milan è un è un colpo? Allora eh se ci soffermiamo sul 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 ragazzo sul giocatore sulle prospettive eh assolutamente dovremmo dire che eh è un buon acquisto è ovvio che se poi andiamo a parametrare queste cifre eh ad altri acquisti che si fanno anche in Europa i giocatori sì eh leggermente più esperti ma di gran valore faccio l'esempio del di van de che è andato al dallo United per trentanove più cinque sei di bonus capiamo che probabilmente eh per Tonali eh si era arrivata e si è arrivata una valutazione io direi leggermente leggermente più alta di quella che sarebbe stata arrivata io dico che è un giocatore che intorno ai venticinque trenta avrebbe avuto la sua giusta collocazione intorno ai venticinque però eh purtroppo c'è purtroppo e diciamo che adesso quando c'è un prospetto giovane eh un classe duemila comunque eh già con una stagione di a una buona esperienza nel giro della nazionale ci può stare che si arrivi a quelle cifre dai insomma eh quindi tutto sommato siamo nel 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 range giusto rimanendo sul mercato del del Milan eh Pietro eh mi confermi intanto eh il prestito secco di Brahim Diaz che è un'operazione un po' sui generis del del calcio mercato nel senso del Milan prende un giocatore in prestito secco senza nessun diritto di di riscatto per non per non dare la recompra al Madrid ho capito bene queste erano le ne abbiamo parlato prima c'era eh la classica operazione del Real per intenderci è quella di cedere un giocatore in prestito per poi concedere alla squadra il diritto di riscatto e poi tenersi per sé il diritto di recompra è successo con Morata è successo con Hakimi è successo con tantissimi giocatori il l'obiettivo del Milan era quello di non avere questa spada di Damocle ovvero il diritto di recompra lasciare il diritto di recompra a Real Madrid ci è riuscito in parte perché ha ottenuto solamente un prestito secco quindi comunque a fine stagione Brahim Diaz tornerà a Real Madrid però c'è la possibilità di trattarlo e magari ottenere qualche sconto diciamo su quello che sarà il prezzo del cartellino comunque io mi io alzo le mani sugli esperti di mercato del Mila ci mancherebbe però mi pare una una valutazione insomma non garantirsi neanche un diritto di di acquisto e rischiando magari di fare esplodere il giocatore per poi vederselo portare via eh ricavando zero mi pare stranissima questa cosa del Mila. E poi c'è c'è da sottolineare anche il valore del giocatore eh perché è un giocatore che era in prestito al City e al City volevano rimanesse lì perché ha qualità è un giocatore importante e giovane quindi è un giocatore diciamo dal quasi futuro di venire poi non so Enzo cosa ne pensa però Enzo? Diciamo che io in tal senso eh intanto eh mi collego prima al discorso che tu facevi di Regulione che poi molti si chiedevano come mai il Napoli a suo tempo per Regulione considerava solo un prestito considerava un prestito per questo esatto motivo cioè della recompra famosa che che il Real eh vuole però il Napoli naturalmente avrebbe voluto un prestito con diritto un prestito secco a mio vedere come dice eh Alessandro è un rischio un rischio sia per il Milan ma soprattutto per il ragazzo eh perché poi è ovvio che nel momento in cui eh la stagione prende una certa piega il Milan non avrebbe nessun interesse a valorizzare un giocatore di un'altra squadra e magari eh il ragazzo avrebbe difficoltà a vedere il campo no? Perché è chiaro che se deve scegliere tra Leao che è tuo e Diaz che non è tuo fa giocare Leao no? Perfetto perfetto quindi pure per il ragazzo e le entourage del ragazzo mi sembra che sia una scelta diciamo un po' rischiosa ovvio che eh poi andare in un club come il Milan per un ragazzo giovane può essere sempre motivo di orgoglio però sicuramente anch'io ho qualche remora su su questa formula e su questo affare non per il valore del ragazzo che certamente è un giocatore di grandi grandi qualità tecniche questo è innegabile è un giocatore interessante da da vedere in Italia mi incuriosisce vederlo in Italia. Volevo rispondere a Marco eh Marco Mazzaro che eh parla intanto di dieci quindici più dieci di bonus che per un duemila non sono tantissimi Kulusev che è costato di più eh Kulusev che è stato comprato prima di tutto quello che che è successo da da marzo in poi era al mercato di gennaio era un epoca pre covid i prezzi erano totalmente diversi è chiaro che no ma poi c'è da aggiungere si deve fare pure eh si deve fare pure una 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 valutazione differente innanzitutto ehm spesso giocatori eh di determinati ruoli soprattutto offensivi quando sono giovani eh naturalmente hanno una valutazione superiore a un pari anno che gioca magari come esterno come centrocampista eh cioè Kulusev che è comunque un duemila un giocatore offensivo difficile trovare giocatori offensivi di qualità a gamba a fisico eh mi mi permetto di dire eh nulla togliere a tonali eh eh che parliamo anche perché sono giocatori di ruoli diversi ma parliamo cioè chi dice che Kulusev che è stato pagato assai magari ne riparliamo fra un annetto tu punti molto te ho letto punti molto su su Kulusev e rimanendo un attimo sul Milan eh giusto per dire che eh sembra tramontata tramontata la l'opzione Aurie per la fascia e la fascia destra eh il Milan se c'è se cederà e pensiamo che lo che lo farà Calabria dovrà andare a cercare un altro elemento sulla fascia destra e soprattutto il Milan mi pare che debba pensare anche alla difesa no? Ne parlavamo ne parlavamo nei giorni scorsi forse manca qualcosa lì dietro soprattutto centralmente. Manca un altro centrale sì 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 il Milan cerca un centrale ha ha fatto molta pressione alla Fiorentina con Milenkovic ma portarlo via da lì è difficile anche per le richieste che fa eh la Fiorentina eh anche il Milan eh sta sondando eh mi dicono il campionato olandese eh pare che abbiano messo occhi su qualche difensore in Olanda ancora non mi è dato sapere il nome ma sembra che eh stiano sondando il mercato olandese ma sicuramente faranno anche un difensore centrale loro per completare il cerchio hanno bisogno di un difensore centrale di un esterno a destra e a basso sicuramente salvo poi anche qualche sorpresa ma diciamo che queste sono le operazioni più più incombenti per loro. Eh volevo chiedervi una cosa eh dopo l'acquisto di di Van de Beek dal eh parte del Manchester United eh nel diciamo nel valutare la rosa del Manchester secondo me si sono aperti un paio di 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 giocatori che potrebbero essere eh ceduti e di grossa qualità eh uno dei 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 più interessanti secondo me è Fred eh che potrebbe far comodo eh a tantissime squadre italiane eh perché è un giocatore che eh che è un po' per far capire magari a chi non l'ha visto giocare eh è un brasiliano ma che non è brasiliano un giocatore come Casimiro un giocatore che che fa che fa un gioco eh diverso da da quello che che la gente immagina dei brasiliani eh potrebbe essere eh potrebbe essere un giocatore buono per il campione italiano Fred Enzo e poi Pietro ma adesso se tu non non so se ieri ha avuto modo di leggere il mio ieri ne ho parlato eh di Fred manco a farla apposta parlando della Roma parlando di Smalling so che la Roma parlando di Smalling ha chiesto informazioni su Fred eh eh naturalmente Fred è un giocatore che il Manchester ha pagato tanto eh lo scorso anno quindi pensare di cederlo sarebbe una misvalenza certa e si è iniziata a ragionare su un'idea di un prestito con la Roma eh quindi sicuramente ci sono possibilità in Italia perché la Roma ci parla con il Manchester e parla di questo giocatore di altre squadre non ho notizie ma sicuramente posso dire che la Roma eh ha chiesto informazioni sul ragazzo e ragiona su un prestito eh quindi non è da escludere che lo possiamo vedere in Italia. Pietro? Sì no concordo con con Enzo e soprattutto però volevo chiedergli forse non ha un ingaggio un po' elevato per quelle che sono le possibilità almeno in Italia perché comunque parliamo di un ingaggio pesante. Sì a me è ovvio che ci dici dici vai Alessandro vai poi dopo. Sì sì diciamo un ingaggio pesante però al momento del prestito poi dopo si discute un attimo come come gestire anche il peso dell'ingaggio no? Come è successo per come è stato per Sanchez esatto perfettamente ovvio che la Roma chiederebbe anche diciamo un aiuto da quel punto di vista ma eh consentirebbe al ragazzo di giocare di rimettersi in mostra e magari ecco poi l'anno successivo eh discutere su un prezzo di un riscatto. È ovvio che quell'ingaggio così com'è la Roma non lo potrebbe sostenere però eh è una un discorso che poi va affrontato con il club di appartenenza. E poi secondo me c'è un altro giocatore lì che non è a livello di Fred eh che è andrà Sperera eh ex Benfica che forse andrebbe valutato anche in un altro in un altro ambito perché comunque è un giocatore che 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 ha sempre giocato bene poi è stato chiuso adesso dall'arrivo di eh Bruno Fernandes eh però è un giocatore che potrebbe tornare tornare buono eh ce n'è un altro c'è lì che sembra fuori dal progetto di di Solskjaer. Cioè oddio da quando è arrivato il tecnico norvegese Lingard non ha mai visto il campo. Mai visto il campo. Se non per qualche spezione quindi anche lui. C'è da fare c'è da fare c'è da fare molto anche per il Manchester c'è da fare molto e proprio il Manchester ne parlavamo di Smalling eh Pietro eh le le ultime notizie parlano ormai di un accordo no tra tra la Roma e Smalling. Sì allora Smalling quasi certamente rimarrà Roma eh la prossima stagione e nelle prossime stagioni eh come sappiamo Smalling era arrivato l'anno scorso in prestito oneroso alla Roma per tre milioni ma eh non ti abbiamo perso ti abbiamo perso c'è stato ti abbiamo perso per un momento vai vai ah ok eh allora ripeto dicevo come sappiamo Smalling era arrivato alla Roma in prestito oneroso a tre milioni non c'è stato eh non c'era stato prima di oggi un accordo sull'eventuale riscatto l'accordo sembra essere stato trovato oggi ovvero un altro anno di prestito e poi l'obbligo da parte della Roma di riscattarlo ad una cifra inferiore rispetto a quella che si si dovrebbe essere intanto se quando salti io ti ti rimpiazzo dovrebbe essere nove più quattro no? Nove milioni più quattro di bonus. Le sommaglie ai tre dell'anno scorso sono diciassette milioni quindi più o meno quanto la valutazione che ne faceva la Roma l'anno scorso una valutazione intorno ai venti milioni molto più bassa come dicevo rispetto a quella dello United che lo valutava intorno ai venticinque trenta milioni. Comunque Vincenzo mi pare un'operazione buona per la Roma no? Comunque si 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 regala tra virgolette un altro anno di un giocatore che che già conosce il campionato che ha dato rendimento alto eh mi pare tutto sommato una buona operazione. Assolutamente a queste cifre è un difensore affidabile come dici tu ha avuto un ottimo rendimento integrato nella squadra quindi sicuramente è una buonissima operazione nulla da dire assolutamente. Sul mercato dell'internet parlavamo lunedì eh c'è qualcosa ancora da 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 capire eh lasciare così tonali presagisce secondo me eh fa fa presagire eh un qualche altra operazione Enzo eh abbiamo parlato di di Cante abbiamo parlato di di tanti centrocampisti qual è la tua opinione su sulle trattative dell'Inter. Sì eh vabbè ehm ovviamente il fatto che si sia sacrificato un obiettivo come tonali che insomma avevano tenuto per per mesi in pugno fa capire che parlando con l'allenatore in relazione anche al budget disponibile eh eh l'allenatore abbia indicato comunque eh il ragazzo non come una priorità ma eh un'aggiunta eventualmente ehm c'è da specificare che che conte quando chiede i giocatori a lui graditi non parliamo di giocatori necessariamente che costino cifre esorbitanti no? È un esempio sono proprio i Dzeko, i Kolarov cioè lui vuole giocatori funzionali ehm questo fa presagire sicuramente che l'Inter a centrocampo oltre Vidal credo possa fare anche un altro giocatore di valore di valore assolutamente si fa anche il nome di Kante che è probabilmente il più complicato eh però eh questo giocatore eh arrivando in aggiunta Vidal probabilmente richiederà un sacrificio che potrebbe essere Brozovic o Skriniar io direi più Brozovic e per fare entrare Vidal ed un altro centrocampista. Kante sicuramente il sogno ma eh insomma trattare col Chelsea non è mai facile è un giocatore che è di assoluto valore e costa non credo che le cifre siano quelle che si sentono perché per me a cinquanta milioni da quello che mi risulta non lo danno ci vorrei credo almeno una decina di milioni in più. Addirittura avevano fantasticato settanta milioni per Kanté, Emerson Palmieri tutti insieme è una cosa una cosa irreale. Magari tu prendi manco Kanté esatto perciò però l'Inter ha delle alternative nel caso in cui Kanté eh non dovesse arrivare alcune diciamo più o meno sussurrate qualcuna magari a sorpresa ma eh sicuramente penso che l'Inter possa fare due centrocampisti di cui uno sarà molto probabilmente Vidal. Eh Pietro il mi confermi eh Collarov eh Inter è chiuso mancano solo le visite mediche perché il giocatore nazionale eh una volta che che tornerà dalla dalla nazionale visite mediche firma? Sì a metà della settimana prossima visite mediche appena il giocatore terminerà eh i giorni nazionale e ehm operazione chiusa un milione più cinquecentomila euro di bonus quindi un milione e mezzo e Bon e Collarov firma un contratto annuale con opzione per il secondo. Comunque se posso c'è una notizia un'ultima ora il Benevento ha chiuso per Caprari della eh della Sampdoria un milione e mezzo più sette e mezzo di riscatto. Quindi altro colpo in attacco del del Benevento. Benevento sta sta costruendo una squadra sembrava all'inizio fosse partita con eh giocatori di nome però un po' avanti con gli anni poi piano piano ha ha cercato di mettere eh di mettere a fuoco gli obiettivi Caprari secondo me è un giocatore che potrebbe potrebbe far bene a Benevento e che parte comunque da da una buona base no Enzo? Sicuramente il Benevento è già una squadra comunque eh esperta di giocatori che hanno giocato già in categoria insomma superiore e e Caprari probabilmente sarebbe uno di quei giocatori che può dare una mano perché il giocatore eh che sa giocare da seconda punta dietro le punte è giocatore di di rendimento quindi insomma il Benevento si sta muovendo veramente con intelligenza per per fare una squadra che si possa salvare diciamo in maniera agevole. Allora prima di di chiudere siamo in chiusura e di lasciare a Pietro gli ultimi due minuti per la per la carrellata di 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 mercato eh volevo chiedere una cosa a a Denzo e su un giocatore che ci stanno scrivendo in tantissimi che è Ricci dell'Empoli ci chiedono tutti dove andrà Ricci dell'Empoli che è un giocatore eh che che ha fatto un grande campionato di 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 B e ed è appetito da molte squadre quindi ti chiedo Enzo di Ricci dell'Empoli poi eh dirò io due cose sulla sulla Lazio che che sembra aver chiuso eh per un giocatore e poi lascia a Pietro la carrellata finale Enzo. Guarda Ricci è un giocatore che è stato sul taccuino di tante squadre di vostre con certezza che insomma l'ha l'ha seguito il Milan eh Napoli eh la Fiorentina ehm il ragazzo rispetto ad alcuni progetti ha il suo entourage in verità eh non il ragazzo ha mostrato perplessità eh per paura di non avere un adeguato minutaggio eh al momento ehm se dovessi dirti credo che la squadra che abbia chance di prenderlo è la Fiorentina. Non so se per portarlo subito a Firenze o magari lasciarlo lì un altro anno in prestito però eh è un progetto che sembra tagliato e gradito anche al ragazzo perché eh tra l'altro ente eh lì anche se andasse subito probabilmente avrebbe la possibilità di ritagliarsi un buono spazio ovvio che se andasse al Milan dove c'è più concorrenza o al Napoli con Zelischi, Elmas, Fabian sai il minutaggio potrebbe essere più limitato. Più basso. Giocatore interessantissimo tra l'altro è veramente un giocatore da grandissima prospettiva. Per per chi l'ha visto sì veramente un giocatore di grosse prospettive. Voglio un un pronostico secco tra nella situazione Torreira tra Fiorentina che pare tornata ancora in vantaggio e Torino eh tra da Enzo e da Pietro eh noi abbiamo avuto eh Torreira testa a testa Torino Fiorentina un giorno avanti il Torino un giorno la Fiorentina Enzo secondo te? Per me Fiorentina anche perché so che sia la sua preferenza comunque. Pietro? In questo momento direi Fiorentino. Bene allora la Lazio eh ieri ha trovato l'accordo con la spalla per eh il laterale sinistro Fares eh sono riusciti Lotiteo e Mattioli a mettersi d'accordo il totale dovrebbe essere sui dieci milioni e mezzo eh a fine settimana eh massimo di rischio della prossima sono attese visite mediche firme eh per quanto riguarda l'affare Murichi ancora siamo eh in una situazione paradossale dalla dalla Turchia arrivano eh notizie di accordo di di giocatore pronto a arrivare a Roma poi passano giorni senza più notizie è un è un eh un affare da da seguire ancora non si hanno eh non si hanno certezze eh Pietro ti lascio gli ultimi due minuti eh per la garellata di mercato e poi ringraziamenti finali. Sì allora innanzitutto parto dalle ufficialità. Timoti Castagne è ufficialmente un giocatore dell'Eister prende il posto di Ben Cidwell passato al Chelsea. La seconda ufficialità di giornata ovvero di venti minuti fa è quella di Lissandro Magallan eh Magallan al al Crotone arriva dall'Ajax è ufficiale anche il ritorno a Real Madrid del terzino Driozola dal Bayern Monaco il Bayern Monaco non ha esercitato il diritto di riscatto e quindi il giocatore torna alla corte di eh Zidane ed è ufficiale infine il rinnovo di Federico Bonazzoli con la Sampdoria fino al eh duemilaventicinque. tra le affari in chiusura ricordiamo quello di Romero all'Atalanta Romero passerà all'Atalanta Romero passerà all'Atalanta con un prestito ed eventualmente diritto e poi obbligo di riscatto quindi in base a determinate condizioni Romero potrebbe diventare interamente un giocatore dell'Atalanta a fronte di un corrispettivo tra i venti e venticinque milioni di euro eh Sebaios al eh Sebaios all'Arsenal è fatta quindi torna in prestito per un altro anno anche in questo caso senza obblighi quindi stessa situazione di Brahim Diaz e infine trattativa One Jesus Genoa ehm quasi in chiusura. Caprari l'abbiamo detto. Mauro Di Carlo ti chiede Enzo. Buonaventura Fiorentina. Buonaventura che si avvicina alla Fiorentina. Benissimo. Grazie Pietro eh Mauro Di Carlo ci chiede ti chiede Enzo so Bosla è un ferro è un fenomeno non verrà mai a Napoli ma questo non lo possiamo dire diciamo che il ragazzo ha manifestato l'idea di vuole rimanere un altro anno là e e e posso dire con con grandissima certezza che uno dei giocatori eh più eh amati e seguiti dal direttore sportivo del Napoli in questi due anni. Quindi quindi ci possono essere ci possono essere possibilità. Assolutamente sì. Allora io vi ringrazio tantissimo ringrazio Enzo che eh ricordo a tutti e ringrazio ancora per essere per per essere stato stasera con noi e per rimanere con noi fino al cinque ottobre ogni giovedì come ospite fisso della della nostra trasmissione ringrazio Pietro ringrazio Marcello che è intervenuto telefonicamente ci vediamo giovedì prossimo ancora con un'altra puntata del calcio del mercato. Grazie a tutti buonanotte buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ciao Ale ciao Enzo buonasera. Ciao Pietro ciao Ale grazie. Ciao ciao buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.